Un anno in 4 minuti ci porta Rottofreno, siamo ospiti dell'ufficio del primo cittadino Raffaele Veneziani. Buonasera Sindaco. Buonasera a tutti. Grazie dell'ospitalità che 2016 è stato dal suo punto di vista personale, ma soprattutto dal punto di vista del comune e della comunità di Rottofreno, di San Nicolò, di tutte le frazioni. È stato un 2016 sicuramente molto impegnativo. Abbiamo ottenuto il coronamento di alcuni sogni, come ad esempio il completamento della scuola primaria di San Nicolò, e la realizzazione negli ultimissimi giorni dell'anno della Rotatoria della Bonina a cura della provincia, che era un'opera indubbiamente attesa da sicuramente decenni. È stato un 2016 caratterizzato anche dalla tornata amministrativa, che ci ha visti riconfermati. È stato un momento indubbiamente di grande soddisfazione, nel quale abbiamo avuto in qualche modo la conferma che un lavoro fatto seriamente, anche in condizioni estremamente difficili, paga. Non abbiamo esitato nel primo mandato a prendere posizioni, talvolta anche in popolari, talvolta difficili. E il fatto che questo lavoro sia stato apprezzato è indubbiamente un segnale che ci porta a vivere questo secondo mandato con molta determinazione e con tante idee in testa. Abbiamo recentemente assegnato i lavori anche del parcheggio della scuola primaria di San Nicolò, che quindi partiranno a brevissimo, e abbiamo un 2017 ricco di tanti progetti. Ecco, naturalmente qualche criticità resta come in tutti i comuni, in tutti i paesi. Quale sarà quella che avrà la priorità proprio nei prossimi mesi? Torniamo a lavorare sul sistema scolastico. Dobbiamo completare la ristrutturazione del plesso di Via Dante a San Nicolò per la trasformazione in scuola materna e il 2017 sarà anche un anno importante per l'ampliamento della scuola primaria di Rottofreno. A corredo di tutto questo la riqualificazione poi di Santimento e la sua destinazione ad attività sociali, culturali e musicali per ridare vigore alla frazione di Santimento che troppo spesso si sente in qualche modo trascurata, ma che ha in realtà una grandissima potenzialità. Ha parlato di lavori pubblici, di opere e di interventi. Allargando un po' il quadro, che cosa si sentirebbe di augurare alla comunità di Rottofreno e a tutti coloro che vivono nel suo comune, se la senti innanzitutto come una comunità unita e ottimista per il futuro? È una comunità indubbiamente unita che come le altre ha sentito i morsi della crisi e di un periodo particolarmente difficile. Quello che mi auguro è che nel 2017 trionfi a tutti i livelli la razionalità e il pensiero, nel senso che abbiamo davanti sfide molto importanti, sia a livello comunale sia soprattutto a livello provinciale. Penso alle gare per i servizi idrico e per i rifiuti, penso alla questione del riordino della rete ospedaliera. Serve molta serietà nell'affrontare le sfide che saranno determinanti nei prossimi anni. Grazie, grazie a Raffaele Veneziani, Sindaco di Rottofreno. Auguri anche a lei. Auguri a tutti i telespettatori.